E' difficile dire perché uno, una persona, un compagno partecipa alla festa dell'unità, lo fa per molti motivi, lo fa naturalmente perché crede anche nei valori che il nostro partito porta avanti, lo fa perché la festa dell'unità è il principale forma di finanziamento che ha questo partito, lo fanno anche per il piacere di stare insieme, lo fanno perché mettono a frutto la loro capacità, mettono a frutto il loro talento per tante compagne, penso per tante compagne anziane. I pomeriggi passati a fare i tortellini in una casa del popolo, in una sezione, sono anche momenti di socialità molto importanti. Quel mese qui, un mese, un mese e mezzo, che si è rotta attorno a questa festa, per me è la vita, la vita anche del paese, perché vedi anche dopo pranzo arrivano queste donette, arriviamo in bicicletta, chi con un grembiolino, chi con il cappellino in testa, chi con un fazzoletto, chi con il suo mattarello, chi con la sprunella, insomma è la vita. Io mi chiamo Tartari Carlo, ho 61 anni, è circa 15-20 anni che lavoro, perché politicamente mi piace stare in compagnia, lavoro per il mio partito, che è tutta la mia vita, perché per me il partito, il sindacato, tutte le associazioni, tutto quello che è sociale, per me va benissimo. Qui cominciamo, alla mattina, che c'è le signore che vanno a impastare, poi si fa la sfoglia, poi si porta, qui c'è quella che li taglia, si riempiono, si fanno i tortellini. Qua stai qui un tre ore circa, 25-30 donne, riesci a fare 250-200 uova di tortellino e passa la tua giornata. Il tortellino è molto importante perché il tortellino è buono, è buono in tutte le maniere, panna, ragù, imbrodo, tartufo, e specialmente il tortellino è buono, fatto col mattarello. Io, mio marito, l'ho imparato, conosce, alla festa dell'unità, il 24 agosto, il giorno del mio compleanno, del 1961. Io ero spettatrice, che ero con le mie sorelle, e lui faceva il cameriere, è venuto a portarci da bere, portandoci da bere, è venuto lì, e poi mia sorella poi ha detto che festeggiava il mio compleanno, da lì è nato, ha fatto gli auguri, hanno dato con il fazzoletto la bandana che portava, che avevano il grembiule e la bandana, adesso si chiama la bandana, allora era un fazzoletto, ha legato le due sedi assieme, e poi mi ha chiesto da ballare, io non siamo dei grandi ballerini, però allora c'era, si ballava strettissimo, poi abbiamo cominciato da lì, ecco, solo che lui aveva un problema, aveva un'altra fidanzata, e aveva un'altra fidanzata, dopo ha cominciato con me, io non lo volevo, però mi piaceva quelle cose lì, e poi dopo ha lasciato l'altra e è venuto da me, e ci siamo sposati. Io non è che che lavorassero ora alla festa dell'unità, quello giovane aveva 18 anni, ci sono diventata grintita dopo, quando ho dovuto battermi per gli asili, con pancione così non c'era asili, che dopo sono rimasti in cibo, e a battermi per i diritti delle donne, quelle cose sono venute, guerrita dopo, a quell'età lì avevo altre cose da pensare. La politica è importantissima, è vita, è vita la politica, perché altrimenti cosa si fa? è fatta bene la politica, io intendo la mia politica, la politica di sinistra, anche se qualche volta si arrabbiano un po' troppo fra di loro, rimpiango un politico, ma uno morto non si può rimpiango, rimpiango Berlinguer, comunque non c'è più, buonanotte. Per me le mie ferie sono quelle da quando cominciamo a fare i tortellini e finiamo la festa. E poi mi dispiacerà quando mi toccherà di stare a casa che non mi tiro dietro le gambe, o che sono diventata troppo grassa che non ce la faccio, non lo so, mi dispiacerà molto, molto, molto. Questa è vita. Non è vita stare in casa, guardare la televisione con quello che ci propina adesso la televisione. Grazie a tutti.